Su indicazione di Regione Lombardia, anche la TS della Montagna ha pubblicato un avviso per la selezione di personale che a titolo volontario e gratuito è disponibile a collaborare per l'attuazione del piano vaccinale iniziato lo scorso 27 dicembre. Il bando è rivolto a medici, infermieri, ostetriche, assistenti sanitari, compresi coloro che si trovano già in pensione. Gli interessati potranno dare la propria disponibilità minima quantificata in un turno o in una giornata per un periodo complessivo di impegno non inferiore ai tre mesi. I professionisti dovranno individuare le SST di riferimento presso le quali svolgere la propria attività di volontariato evidenziando contestualmente anche i giorni della settimana disponibili, compresi sabato, domenica e festivi al fine di garantire la migliore organizzazione del lavoro possibile. Alla scadenza dell'avviso, la TS della Montagna verificherà le autocertificazioni compilate dagli interessati e predisporrà appositi elenchi in base alle destinazioni e alle disponibilità rilevate. Saranno invece le SST a provvedere direttamente al reclutamento e alla formazione del personale inserito negli elenchi predisposti da TS della Montagna. Sempre la SST si occuperà di disciplinare i rapporti con il volontario, garantendogli copertura assicurativa e un rimborso spese. La domanda, debitamente compilata e firmata, dovrà essere inviata unicamente all'indirizzo mail volontari vaccinazione covid-19 chiocciolats-montagna.it unitamente alla copia del proprio documento di identità e del curriculum vitae. Per presentare la domanda c'è tempo fino al 3 febbraio, eventuali richieste pervenute successivamente al termine saranno tenute in considerazione e inserite in un apposito elenco.